Sei pronto per l'ultima carrellata di colpi di scena nella stagione di Uomini e Donne? Sembra che tutto ruoti attorno a Mario Verona, il cavaliere del parterre over che ha recentemente chiuso la frequentazione con Ilenia per concentrarsi su Milena Parisi. Dopo la rottura con Ilenia, le polemiche non sono mancate, soprattutto per le dichiarazioni della dama riguardo alla «staticità» di Mario. E sembra che le parole di Ilenia siano state seguite dai fatti, visto che il cavaliere ha chiarito in puntata di voler portare avanti la frequentazione con Milena Parisi. Ma cosa c'è di vero dietro a tutto questo? Mario Verona e Milena Parisi sono davvero fidanzati? Questa è la domanda che si pongono i fan di Uomini e Donne, soprattutto dopo gli scatti che li ritraggono insieme durante un romantico weekend a Catania, città di Milena. Secondo quanto riportato da Il Vicolo delle News, sembra che tra Mario e Milena ci sia una sintonia notevole. Il cavaliere si è recato direttamente a Catania per passare del tempo con lei, dando così seguito al suo proposito di prendere sul serio questa frequentazione. E adesso la domanda che tutti si pongono è, una nuova coppia sta per sbocciare a Uomini e Donne? I prossimi giorni potrebbero essere cruciali per scoprirlo. Mantieniti aggiornato per non perderti neanche un dettaglio di questa vicenda piena di colpi di scena. Che tu sia un fan accanito del programma o semplicemente curioso di scoprire cosa riserva il futuro per queste due persone, una cosa è certa, la storia tra Mario Verona, Ilenia e Milena Parisi sta tenendo tutti con il fiato sospeso. Non resta che attendere i prossimi sviluppi per capire se il cavaliere del parterre over troverà davvero l'amore con Milena o se ci saranno ancora sorprese in serbo per lui. Una cosa è certa, Uomini e Donne non smette mai di regalare emozioni e colpi di scena. Resta connesso per non perderti nemmeno un dettaglio di questa avvincente vicenda. E tu, cosa ne pensi di questa nuova coppia? Sei pronto a tifare per Mario e Milena o credi, che Ilenia possa ancora avere un ruolo da protagonista in questa storia? Facci sapere la tua opinione nei commenti e resta sintonizzato per tutti gli aggiornamenti. La prossima puntata di Uomini e Donne, potrebbe riservare ancora molte sorprese.